Il progetto Crea la tua etichetta è realizzato dalla Camera di Commercio di Macerata, area tutela del mercato, su proposta della Coldiretti e nato per supportare gli operatori del settore ad un corretto approccio alla materia dell'etichettatura sui prodotti alimentari, reso ancora più difficile dalle recenti evoluzioni normative in materia. La Camera di Commercio in materia di etichette, perlomeno nelle marche, in materia di etichette dei prodotti alimentari non ha competenze specifiche, però si è ritenuto di fare questo progetto per dare un supporto alle aziende che fanno produzione o confezionamento di prodotti alimentari e dove c'è una normativa abbastanza complessa in materia di etichettatura tra norme nazionali, europee, regionali anche, quindi abbiamo creato questo sito a supporto proprio delle imprese, ma anche a tutela dei consumatori che possono andare a controllare se le etichette che trovano nei prodotti che acquistano sono corrette oppure no. Molti i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione, la Coldiretti, l'Asur, i NAS dei Carabinieri, il Comando della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e l'Ufficio Circondariale Marittimo, con l'obiettivo di poter fornire un modello da utilizzare come strumento per la consultazione e l'informazione circa la complessa materia dell'etichettatura degli alimenti. L'obiettivo della Camera è stato quello di realizzare uno strumento concreto da mettere a disposizione degli operatori, soprattutto del settore agroalimentare, i quali si trovano di fronte a una miriade di normative nazionali ed europee, a volte anche di difficile interpretazione. Il nostro obiettivo era di creare uno strumento pratico molto fruibile. L'operatore può collegarsi al sito www.infoetichetta.it e poter ottenere tutte le informazioni necessarie per realizzare un'etichetta conforme alla legge, quindi poter dirimere anche tutti i dubbi relativamente alle informazioni obbligatorie o quelle facoltative. Il nostro obiettivo era anche tutelare il consumatore, cioè il consumatore ha bisogno di sapere e di conoscere. L'etichetta è il biglietto da visita sia dell'operatore ma permetta al consumatore di acquisire tutte le informazioni che lui ha bisogno.